Grazie a tutti, non vi farò domande, quindi siamo a posto, anche perché poi le risposte sono critiche, quindi tu vai tranquillo, guardo te ma non farò nessuna domanda. Allora il tema di questa mattina, sono stato molto attento io, avete parlato tutti in maniera molto saggia, direi profonda, siete stati tutti brillantissimi, avete soprattutto trattato degli aspetti che sono di natura biochimica, che io rispetto e non metto in dubbio nulla, nulla. Però vedete c'è stato un nostro collega, che adesso non c'è più, un medico dell'Università della Sapienza di Roma, che ha fatto un convegno scientifico dopo 10, dopo 15 giorni, però è andato in cielo. Io lo conoscevo molto bene, non sapevo del convegno, non ho partecipato al convegno e vi devo dire che qualche d'uno mi ha mandato la sua registrazione, ma come intervista? E sono rimasto colpito del fatto che un professore universitario dichiarasse alla giornalista che lo intervistava, nella facoltà di medicina c'è veramente un gap enorme. E qual è il che è il gap enorme? È la fisica, la non conoscenza della fisica quantistica. Io mi ho detto ma in che mondo vivo? Caspita, è un professore universitario, la pensa come me. Ma io arrivo dalla fisica. E allora vi devo dire che la mia vita è stata passata con grande successo nella fisica quantistica, che poi però mi ha visto giocare un ruolo diverso, perché sono entrato in medicina. Allora voi capite bene che voi stamattina avete ragionato e mi avete lasciato a bocca aperta. In modo particolare il mio amico Soresi, che ha parlato dei mitocondri, ha scritto dei libri, ha scritto il libro che mi ha colpito, Mitocondri o mon amour. E lui stamattina ha fatto vedere delle cose interessanti. E la dottoressa che l'ha seguito mi ha ancora più colpito. E io ho detto, caspita, ma guarda che segnali sono andati a esaminare attraverso l'analisi, il comportamento del mitocondrio. Ah ma questa è fisica! Questa è fisica. e allora vi devo dire che grazie agli amici, Marcus, grande, grande medico che sa la fisica come potrei saperla io, e che ha sviluppato un sistema di biorissonanza, qui ormai la biorissonanza ce l'hanno tutti nella testa, tutti si esprimono nella biorissonanza. Però molto spesso non si capisce fino in fondo che cavolo vuol dire. Ma vuol dire che i nostri organi, e la dimostrazione ce l'abbiamo nel campo della medicina classica. Quando io ho un dubbio, sì, faccio fare una serie di esami, ma poi arrivo alla risonanza magnetica nucleare. E la risonanza magnetica nucleare non si basa sulla parte biochimica, si basa solo sulla parte biofisica e di risonanza. Ah caspita, ma allora anche i medici cominciano a capire una parola strana, brutta, risonanza. Risonanza. E ma io sono allora un elemento che risuona. Voi siete degli elementi che risuonate. Gli animali sono elementi che risuonate, che risuonano. I vegetali sono elementi che risuonano. Allora non distingue più le cellule umane nostre dalle quelle degli animali e quelle dei vegetali. Tutta la materia vivente risuona. Allora mi piacerebbe sapere il concetto di risonanza, il concetto di risonanza. Ma perché gli organi risuonano? Ma certo, un principio fondamentale della fisica quantistica quantistica. Le masse sono energia. E l'energia come si traduce? In onda. E l'onda qual è la caratteristica fondamentale dell'onda? Al di là dell'ampiezza, della fascia. Ma sì, d'accordo, ma è la frequenza. Allora vuol dire che il mio fegato, il mio pancreas, il rene, i polmoni hanno masse diverse, hanno energie diverse, hanno frequenze diverse. Allora noi siamo un insieme di frequenze che non vediamo, non sentiamo, ma siamo degli emettitori. E se siamo emettitori di frequenze vuol dire che siamo ricevitori di frequenze. E quando Giorgio nella sua introduzione parla della interazione della materia vivente con l'ambiente che circonda, parla di tutto l'ambiente in senso generale. Epigenetica, l'avete detto voi. L'ambiente che ci circonda è l'inquinamento dell'aria, sì, dell'acqua, sì, del suolo, sì, inquinamento elettromagnetico, sì, guarda, guarda quanto è l'inquinamento elettromagnetico. Ah, ma non la senti? Ah, certo, non lo senti, ovvio. Ma perché? I rapporti sociali, il fatto dell'amore, tema noto a Giorgio, va sempre lì. Temi sociali, la contraposizione, la concorrenza, il confronto, lo scontro, che chiaramente incidono. E allora devo dire che grazie a loro, là in fondo, sarà quello che mi segue. hanno avuto un intuito geniale, perché sono profondi i conoscitori della fisica. E che cosa hanno fatto? Arrivo qui? Arrivo qui. Fotografatemi qui voi. Perché guardo questo disegnino. Ah, un disegnino, sì, certo, da fisico dico, ma guarda, è un filo avvolto, eh, guarda un po', arriva, guarda, guarda, cosa fa, seguite il mio dito, guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda faccio una modifica, questa bobina dal punto di vista nostro, di fisici, è un circuito che oscilla, è un circuito che oscilla vuol dire che è in grado di captare, di risuonare su qualcosa, ma questo è una grande invenzione, perché guardate, è una bobina che ha un flusso che va in questa direzione, arriva al centro e torna indietro, quasi quasi, uno potrebbe dire, ah ma allora è una cosa che va in questa direzione e torna indietro, ovvero zero, no, no, questa è una bobina eccezionale, e io su questo tema, tre anni fa, ho scritto non ho pubblicato, Giorgio è partito a battere macchina un pezzo del mio discorso, ma sono rimasti lì, ma se voi analizzaste il risultato di questa cosa, che ha il senso, oserei dire, della semplicità e non della complessità, perché questo è un circuito risonante, ovvero è in grado di captare informazioni di tipo biologico e secondo voi, qual è, voi che siete grandi esperti di biologia, qual è il tracciante più importante, potrei dire l'urina, no, potrei dire la saliva, no, potrei dire come Montano mi dice, ma Giorgio io esamino lo spettro dello sperma, no, è parziale, ma qual è lo spettro totale che esprime la condizione psicofisica, qual è, se non il capello? Certo quel suo bulbo ovviamente, non certo lo stelo, lì c'è la memoria, la memoria di che cosa? Dello spettro di frequenza complessivo che ciascuno di noi emette. E allora voi capite bene che se è vero quello che vi ho detto in premessa, se è vero che questo è un circuito risonante, semplice ma complesso, se vi faccio vedere il picco qui di risonanza che il mio cappello, che il vostro cappello può dare, voi rimanete con la bocca aperta, ma non faccio né una lezione di fisica né quantomeno uno sviluppo matematico, non spaventatevi, ma qui il cappello trasferisce lo spettro, attenzione, fino a quel momento lì, per cui dice beh ma se poi dopo lo strappo dopo un'ora, le condizioni cambiano, perché cambiano? Perché la materia vivente è dinamica, non è statica, ma anche l'esame del sangue è dinamico. E allora è evidente che io medico, poi sentiremo persone esperte, io medico dovrò utilizzare come utilizzo tutti gli altri esami, non posso dire che questo è il test diagnostico, il diagnostico non è mai, tutti gli esami che noi facciamo non sono diagnostici, sono però esami che permettono il supporto alla diagnosi, che fa il medico, non può fare nessun altro, perché se no allora guardate, prima o poi daremo, ognuno di noi in casa avrà un sistema del genere, ci facciamo l'autodiagnosi, no 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 no, ma questa è una cosa bellissima, perché? Perché lo spretto viene captato da questa bobina, e certo lo spretto, guardate, seguite il mio dito, lo spretto è una cosa così, dove sull'asse X metto le frequenze e sull'asse Y metto le ampiezze, ecco il mio dito, guarda, hop, hop, ma quello lì, dal punto di vista fisico, come si chiama questo spettro, se non spettro analogico, cosa vuol dire analogico? Continuo, è come l'elettrocardiogramma, è un pennino che gira, fa così, ma secondo voi io posso memorizzare un sistema analogico nel mio computer, qui? no, perché? Eh perché? Eh perché devo trasformare uno spettro analogico in uno spettro fatto a punti, ovvero traduci meglio, digitale, e il digitale può essere memorizzato qua, nella memoria del computer, e quindi io posso mandare dall'altra parte del mondo, lo dico sempre, dall'altra parte del mondo, via onda elettromagnetica, via internet, no, in questo caso lo mando più facilmente in Germania, e di là cosa faranno? Eh di là faranno un'elaborazione del mio spettro che da analogico è passato digitale, avranno dei computer meravigliosi, stupendi, che andranno a vedere tutti i dettagli di frequenza, e quindi con una rapidità quasi pare alla velocità della luce, in pochi minuti avremo un risponso, risponso, non una diagnosi, non fate l'errore, molto spesso incontro persone che mi dicono, eh professore guardi, abbiamo uno strumento in grado di fare la diagnosi, uno strumento in grado di fare la diagnosi, ma chi è questo strumento? Non esiste al mondo uno strumento in grado di fare la diagnosi, esistono al mondo n strumenti in grado di dare il supporto alla diagnosi, e questo penso che sia uno strumento veramente eccezionale. Quindi vedete che necessariamente uno per dimostrare questa cosa qui semplice e nello stesso tempo complesso avrebbe bisogno di avere una base di fisica quantistica, perché vi devo dire una cosa, voglio stupirvi, quando io ho visto il famoso video che mi ha lasciato, mi ha colpito, mi ha colpito direi nel cuore e nella testa, perché è un professore universitario, qui ce ne sono autorevoli, che arrivano a dire le cose che ha detto lui, col coraggio di dire le cose che ha detto lui, che è il coraggio che mi contraddistingue da molti anni, 40, 35, avendo ricoperto posizioni istituzionali importanti, direttore generale di grandi ospedali lombardi, e ho vinto la battaglia, ma lui probabilmente è morto. Perché? Perché ha detto una cosa che è abberrante, scientificamente però non abberrante, valida. Vi faccio solo questo esempio nella conclusione del mio intervento. Questo grande professore che non c'è più dice alla giornalista che ha fatto una sperimentazione su dei topolini di laboratorio, 20 per la precisione, e di questi 20 topolini hanno innestato tutti i 20 un tumore maledettamente aggressivo. E cosa ha fatto questo professore? Il laboratorio ha fotografato i primi 10 topolini, A, B, C, D, E, fino al 10. Gli altri non li ha fotografati. Sono morti tutti quelli non fotografati. La giornalista, anche lei all'ipita, chiede, ma professore, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ah, guarda, glielo spiego. State ad ascoltare, amici, che il futuro si chiama questo. Dice, vede, la fotografia del topolino A, come quella del B, come quella del C, esprime fotoni. Come esprime fotoni? Eh sì, è un'immagine corrispondente del topolino. Beh, e questi fotoni appartengono a quel topolino. E noi abbiamo trattato, ascoltate, state ben seduti e non svenite, abbiamo trattato i topolini che erano stati fotografati con terapia elettromagnetica. I fotoni voi sapete che sono luce, la parte di luce che può essere vista, ma io potrei utilizzare delle frequenze di fotoni che non vedo, nella fotografia, io quando guardo una fotografia fotografo lui, lui mi emette fotoni. Sì, sì. Bene, hanno trattato, caro collega, hanno trattato la patologia di dieci topolini lavorando sui fotoni della fotografia. Io capisco che questo professore universitario cattedratico dell'Università La Sapienza di Roma, dove io ho fatto il master, primo master di biorissonanza in un'università pubblica, ha dimostrato quello che io ho tentato di dirvi. Quindi il futuro si chiama fisica quantistica, il futuro si chiama biorissonanza, il futuro della medicina moderna si chiamerà medicina quantistica. Grazie a tutti.